La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno, ben trovati alla rassegna stampa di questo giovedì 22 ottobre. Tanti argomenti che bollono in pentola sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola e in primo luogo sempre la vicenda legata alla legge Severino e quanto accaduto le notizie sul Pontefice che secondo alcuni quotidiani nazionali avrebbe un tumore poi smentito dalla Santa Sede. Andiamo con ordine e partiamo come sempre dal mattino di Napoli leggendo il titolo di apertura giallo sul Papa, l'ira del Vaticano. La Chiesa smentisce il quotidiano nazionale, sta bene in tento manipolatorio. Lo scopo sul tumore al cervello definito infondato dalla Santa Sede anche il medico giapponese nega di averlo visitato. Intanto indagato a Salerno il chirurgo che tarocca la foto. Chi ha paura di Francesco è l'analisi fatta da Massimo Introvigne. Poi in taglio alto invece arrivano buone notizie per il sindaco di Napoli Luigi De Magistris in merito al processo Why Not assolto. Finita una grande sofferenza, la Corte d'Appello di Roma ribalta la condanna del sindaco per abuso d'ufficio e quindi di fatti l'applicabilità della legge Severino non c'è più all'indomani proprio della pronuncia della consulta che la definiva legittima. Poi la cronaca, crollo alla galleria, 8 indagati per la morte del 14enne, accusati di omicidio colposo, 5 funzionari comunali e 3 amministratori di condominio. Poi ancora Renzi in TV sul contente non cambio, il premier pronto alla fiducia, apertura su Verdini. Poi la frenata Netanyahu e qui parliamo di politica estera. Hitler la storia negata, la frase shock del premier israeliano non voleva la Shoah. Infine c'è spazio anche per lo sport, per il Napoli. Sarri ora tocca a Gabbiadini, mi aspetto molto. L'Europa League porterà il giocatore azzurro a scendere in campo dal primo minuto. Questa era la prima pagina del mattino di Napoli. Restiamo sul mattino e apriamo la pagina dedicata a Salerno e leggiamo il titolo d'apertura. Crescent, stop, ma niente ruspe. Il resame conferma il sequestro, scongiurate demolizione e confisca. Avvio senza autorizzazione e lottizzazione abusiva. Cadono le ipotesi di reato, i legali. Valutiamo un altro ricorso. Incubo Severino, De Luca tira dritto. Due colpi dai giudici fedelissimi in tensione. La governatora ai suoi. Calma, lavoriamo. Società espunta l'ipotesi di abbandonare il progetto Mezzaluna. Poi l'ordinanza, vantaggi economici a privati. Poi ancora verso le elezioni comunali a Salerno. Leggiamo sindaco, l'outsider e l'Andolfi, un candidato di garanzia. Poi ancora la cronaca. Mamma allontanata dal figlio di cinque giorni, indagata per l'omicidio del primo bambino. Il tribunale le nega l'affidamento scelta dovuta alla potestà alla nonna. La madre potrà vederlo soltanto in sua presenza. Caos ruggi. Piove nel pronto soccorso aperto un anno fa. E infine questa è la prima pagina del mattino dedicato a Salerno. Cambiamo quotidiano e apriamo invece adesso la città di Salerno dove in primo piano ci sono le parole del premier Matteo Renzi che dice la Severino non si tocca, spettro sospensione De Luca, il mistero del fascicolo trasferito. Le reazioni alla sentenza della consulta, il governatore Cinguetta keep calm e al lavoro. Intanto a Salerno il tribunale boccia il ricorso, crescent sotto sequestro. A Torrione, delitto di Torrione, fece a pezzi la madre, non sarà condannato. Maestra urla in classe, rivolta al Carmine, mentre a cavo dei tirreni straordinari d'oro ai ginecologi esterni. Poi la polemica, le coperte tolte ai barboni, difesa dei vigili urbani erano stracci. E infine si parla anche del medico di Salerno, il medico del Papa indagato a Salerno. Questo l'abbiamo visto anche prima sul mattino. Chiudiamo la prima pagina della città di Salerno e andiamo avanti. Leggiamo la prima di Cronache del Salernitano. In primo piano crescente c'è il dolo per i giudici permessi dal 2011 al 2015, permessi per costruire, non erano legittimi e leciti, nei guai i dirigenti comunali che hanno rilasciato le autorizzazioni avvantaggiando Rainone il riesame di sequestro all'opera perché devono essere pagati gli oneri di urbanizzazione. Poi ancora il medico di Papa Francesco indagato a Salerno per Mazzette coinvolto nell'inchiesta per un giro di soldi per aggirare le liste d'attesa all'ospedale Ruggi. Poi ancora in taglio basso leggiamo le altre notizie. Salerno il cannibale di Torrione assolto, minaccia il suicidio per tenere il nipote, figlia indagata per la morte del neonato, infine Salernitano, due mesi di stop per Trevisano, ok invece Colombo e Lanzaro. Questa è la prima pagina di Cronache del Salernitano. Andiamo invece adesso a leggere la prima pagina di Metropolis, edizione di Salerno e provincia. In primo piano il caso Crescent che resta in piedi, il Tribunale del Riesame conferma il sequestro ma dice no all'abbattimento dell'opera. L'ultima parola passa ai costruttori. Per annullare i sigilli devono pagare tutti gli oneri. Scafati, allerta maltempo, la strategia di Aliberti, rispolverato il piano di emergenza del 2010, caos per i lavori a monte del fiume Sarno. Scafati e Cava vendevano cellulari rubati, quattro persone a rischio processo, poi ancora nell'agro di stacchi alla rete idrica. Ora la Gori fa dietro front Salerno. Invece mangiò la madre, il cannibale è prosciolto, il 48enne Linorenzi è stato considerato affetto da infermità mentale. Perse il figlio a due mesi, le tolgono l'altro, la nonna minaccia il suicidio in clinica, i giudici le affidano il piccolo. Giallo sulle cure del Papa, medico indecato a Salerno, battipaglia. Il carico ricoperto all'Asi, sindacicati contro Zara. Infine lo sport salernitana e crisi si torna al tridente, Amarcord Ragusa, Serie D. Invece Cava stop ai tifosi, vediato l'esodo a Sarno, mentre Givova in cattedra al liceo per il progetto per 250 studenti. Questa era la prima pagina di Metropolis. Con Metropolis chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa. Ci vediamo dopo la pubblicità per la seconda parte. Seconda parte della rassegna stampa di questo giovedì 22 ottobre. Andiamo adesso ad approfondire rapidamente quelli che sono gli argomenti principali trattati sulle prime pagine dei quotidiani oggi in Edicola. e partiamo dalla questione relativa al pontefice aprendo Metropolis che ci svela e che ci analizza più in dettaglio la vicenda del professore giapponese che è indagato anche al Ruggi. Leggiamo il titolo. Indagato professore del Ruggi che diagnosticò tumore al Papa. Coinvolto nella vicenda delle mazzette, il neurochirurgo giapponese Fukushima visitò Bergoglio, non era grave, ma è giallo. Dice di aver diagnosticato a Papa Francesco un male al cervello, ma per la santa sede il professore giapponese che opera al Ruggi di Salerno dove sotto inchiesta per la storia delle mazzette smentisce quando aveva sedito da luminare proveniente dal sol levante. Il giallo si infittisce anche perché ieri sera la segretaria di Takanori Fukushima ha confermato le dichiarazioni della portavoce vaticano padre Lombardi. Intanto, in taglio basso, ci sono proprio le parole di Lombardi che di fatti dice la santa sede è indignata sono notizie manipolatorie il portavoce del Vaticano dice Francesco non ha nessuna patologia l'osservatore romano è stato sollevato un polverone per nulla. Intanto a Salerno dicevamo dell'inchiesta che coinvolge il luminare giapponese che è nel mirino con altri tre medici infatti figura tra i quattro medici indagati nell'inchiesta della procura il PM Olivieri che sta facendo tremare il ruggi ipotizzando un giro di mazzette per gli interventi di neurochirurgia bypassando le liste d'attesa. Insieme al professore difeso da Saverio Sicca ci sono anche il primario Luciano Brigante accusato di concussione il direttore del Dipartimento di Neuroscienze Renato Saponiero e l'altro neochirurgo Gaetano Liberti in organico nella clinica specialistica di Pisa del collega giapponese questa è la vicenda sicuramente ne sapremo di più nelle prossime ore ma adesso guardiamo la politica e vediamo un po' quali sono state le reazioni alla decisione della consulta sulla legge Severino e De Luca è lì che si gioca la vera partita e ce lo ricorda il mattino quest'oggi rischio sospensione la vera partita si gioca su De Luca pressing dopo il verdetto sulla Severino il tweet del governatore keep calm De Luca non si scompone va avanti confortato dal parere dei suoi giuristi per i quali la vicenda di Luigi De Magistris non ha nulla a che fare con la sua keep calm al lavoro senza distrazioni e il messaggio affidato a tweet da parte del presidente della regione Campania che invita i suoi avversari più che si è stesso a mantenere la calma intanto sulla questione sono arrivate anche le parole di Mara Carfagna che ha dichiarato l'incertezza in cui si trova la Campania è colpa del PD mentre per gli avvocati di De Luca attendiamo la sentenza Berlusconi invece è stato deluso dalla consulta e si affida alla corte di Strasburgo lo leggiamo in taglio basso il cavaliere oggi a Madrid per il vertice del PPE chiederà di essere sostenuto il rammarico il leader di Forza Italia confida ai suoi in Italia non c'è speranza di giustizia ma in Europa avrò ragione queste le parole di Silvio Berlusconi staremo a vedere come andrà a fine questa vicenda è chiaro che le polemiche i fiumi e l'inchiostro si sprecherà in queste settimane lasciamo la politica per parlare invece adesso di territorio di Vallo di Diano leggendo su cronache del Salernitano quelli che sono gli argomenti principali trattati quest'oggi dal quotidiano Salernitano nella pagina dedicata al Vallo di Diano in primo piano tribunale ora il sindaco tranquillizza Asl e Comitato nei giorni scorsi si era fatto largo la voce secondo cui il primo cittadino si sarebbe opposto al trasferimento della struttura sanitaria nell'ex sede giudiziaria diversi timori e le sollecitazioni dei vertici dell'azienda e dei tribuni del palazzo di giustizia poi ancora gli alluvioni che stanno colpendo il Sannio e Benevento presente anche la protezione civile con i suoi volontari per dare una mano Sassano finalmente messo nero su bianco dal progetto di fusione tra la BCC Banca del Cilento e Lucania Sud e la BCC di Sassano l'accordo siglato nei giorni scorsi dai rispettivi presidenti nuovi programmi per il territorio San Pietro Altanagro domani in incontro del GAL sulla nuova ricerca economica Pertosa invece nello scenario delle grotte di Pertosa Auletta Ulisse il viaggio nell'Ade il fascino del mito si riappropria delle magiche grotte dell'Angelo poi ancora tenta il suicidio in carcere a Terni salvato da un cittadino di Polla agente penitenziario a Teggiano invece in vista del Giubileo l'affollato incontro una chiesa per tutti questi sono gli argomenti principali trattati da Metropolis questa mattina e questi da cronache del Salernitano scusate lasciamo la cronaca per parlare adesso di sport parliamo di Salernitana una Salernitana che deve fare i conti con nuove emergenze in infermeria Trevisan KO due mesi di stop mentre Columbo e Lanzaro si riprendono Torrente perde l'ex Padova ma recupera altri due difensori con il Cesena ci saranno anche Bovo e Gabionetta non Eusepi nell'analisi in questo articolo viene evidenziata una abulia offensiva Salernitana secco da 291 minuti l'ultimo gol è contro la Terrana un avvio a rilento e Granata dormono nei primi 25 minuti subiti 7 su 13 gol e infine la meredizione di Torrente che insegue ancora la sua centesima vittoria intanto il Cesena rifinisce la preparazione e parte per Salerno infatti la seduta oggi in programma è un elemento a porte giuse per quanto riguarda il Cesena e poi la partenza in direzione Salerno dove è attesa la sfida di domenica sul questa è quanto quanto ci racconta il cronache sulla Salernitana che parla anche di tre pilastri della passata stagione che adesso vanno sulla via del recupero potrebbero essere importanti per la restante parte della stagione tra cui si segnala anche a parte il ritorno in squadra di Nalini che sta svolgendo un periodo di preparazione dopo l'infortunio che l'ha messo fuori causa da sei mesi questa è quanto ci racconta cronache della Salernitana ma adesso leggiamo anche cosa ci riporta il mattino sulla compagine Granata e parla già di moduli tattici in vista di sabato la scommessa il tridente contro la crisi torrente torna al 4-3-3 tegola Trevisan lesione al polpaccio 40 giorni di stop salta 5 sfide mentre in porta c'è ancora il balletto Terracciano Stracoscia Stracoscia gioca nelle riserve Colombo sta meglio e potrebbe recuperare proprio sul mattino viene riportata anche un'intervista che parla proprio di l'importanza di questo match dice è un match decisivo come un derby ma ora il Cesena parte favorito e soprattutto questa è la situazione a parlare e Samuele Olivi uno dei protagonisti di quella squadra di Pioli che nel 2003-2004 fece una grande stagione quindi parla anche l'ex giocatore Granata al mattino che poi tra l'altro è anche un ex del Cesena questa la situazione per quanto riguarda la Salernitana staremo a vedere quali saranno le scelte del tecnico in vista della gara di sabato contro il Cesena alle ore 15 con lo sport noi chiudiamo questa edizione della Rassegna Stampa vi ricordo che tutte le news e gli approfondimenti sono disponibili sul nostro sito web 1tvweb.it oppure all'interno delle due edizioni della telegiornale quello delle 13 e 45 delle 19 e 45 io intanto vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti